La situazione difficile è che, secondo me, cosa fare dopo, no? Bisogna inventarci qualcos'altro, inventiamoci qualche nuova... Adesso ci sarà l'Expo del Kazakistan, che non è un insulto ma è quello del 2017, e quella tecnologia, ci sarà quello di Dubai, noi abbiamo qua Palazzo Italia e avremo problemi per il sindaco perché Palazzo Marino dal nome non ci vuole piantare nessuno.